Ciao amici, e guardate questo effetto. Intanto io uso un mazzo di carte regolare, addirittura queste sono carte cinese, quindi niente di originale, ok? Le carte vanno mescolate, e ora, immaginate che di tutto questo mazzo di carte io scrivo su un foglio una previsione. Questa previsione, vi assicuro, io la prendo e la metto qui, ok? Perché di tutte queste carte mescolate sarà lui che dovrà fare un piccolo miracolo, ok? Non è facile, però ci proviamo. Come funziona il tutto? Guardate, io gli chiedo a lui semplicemente di dirmi stop a una carta, io butto giù e lui pensa una carta, io butto a Mazzetti, dimmi stop, quando vuoi tu, dice stop, ok? Dove vuole lui? Io vi assicuro, ragazzi, che dice stop alla gemella.